Ok, Neck nomination, ciao! Allora, ringraziamo prima di tutto il nostro amico Andrea Perrozzi che ci ha nominato. Ciao Andrea! Grande idea! Abbiamo chiesto ai Vertici se potevamo fare un duetto e ci hanno accordato questa bella cosa e quindi facciamo un duetto meraviglioso di Neck. Meraviglioso! Una chicca direi, direi proprio una chicca! Vai! Ok, vai! Tornerai Ogni tanto sto da sola e sono sicura che non mi ritroverai Tornerai Ogni tanto sono stanca di riascoltarmi mentre piango la mia infelicità Tornerai Ogni tanto guardo indietro e scopro che il meglio di questi anni sia passato di già Tornerai Ogni tanto tremo di paura ma poi nei tuoi occhi sento quello che sei Tornerai e non sai Ogni tanto cado e non ci sei Tornerai e non sai Ogni tanto cado e non sai Ogni tanto cado e non ci sei Ora ti voglio più che mai Ora ti voglio qui per sempre Se solo tu mi sfiorerai ci stringeremo eternamente Ce la faremo se tu vorrai Non sbaglieremo mai Insieme cambieremo questa nostra realtà Il tuo amore è come un'ombra che non mi lascia mai Non mi lascia mai E come dici tu qui nell'oscurità La luce si confonde con la felicità La felicità Ti voglio qui più che mai Per sempre tu mi stringerai Per sempre tu mi stringerai Eh beh Grandi eh Eh bravo bravo Ma adesso veniamo ai tasti dolenti A quest'ora Veniamo ai tasti dolenti Perché c'è L'enomination E abbiamo quattro domi Bolte di T-R-7 Vai con le prime due I primi due sono Gaia Naselli Per i miei di famiglia Francesco Italiani Bene Negli altri due li dico io Negli altri due li dici tu Eros Conforti E A grande richiesta Micaela Lancione Buona neck nomination In bocca al lupo Ciao ciao